Buonasera e benvenuti da Giovanni Barsotti è successo praticamente di tutto ci sono anche i fumogeni in questo momento prima di questa partita le luci sono saltate diverse volte siamo il ritardissimo da una parte quello che è il quinto offender a punteggio pieno dall'altra gli altri a punteggio pieno del girone ovvero i baciamo le mani Stefannini che è andato è primo in classifica assist occhio a questo destro da lontanissimo prima mezza fiamma da parte di Dell'Elce colpo di testa di Russo attenzione perché questo pallone passa Stefannini rischia tantissimo autotraversa di Stefannini pallinare di rigore verso Morello più in alto di tutti fa 1 a 0 Ale Morello a 10 in classifica cannonieri meno uno da galletta arriva la pressione anche di Marotta Rabitti è solo Rabitti non calcia Rabitti ma fa un assist pazzesco per Morello sono a tiro per Rabitti palla messa fuori Dell'Elce occhio perché anche lui ha un buon destro deviato in calcio d'angolo grande risposta di Iadi Cicco continua ad attaccare il baciamo alle mani partita comunque tutto sommato quasi equilibrata dal punto di vista del processo ballo e mezzo occhio a Podda al limite e ovviamente a Russo Moscatiello tutti strepitoso vuole andare a cross anche col mancino il suo piede lo mette buono per Morello è la palla che è rimasta l'incredibilmente un salvataggio pazzesco di Iadi Cicco Brugnola con il destro fa 1 a 1 riapre la partita completamente tutto da rifare per il baciamo le mani palla centrale e Sisti è dispeso Morello che ripende posizione in mezzo finta di Masciadri palla in centro per Morello eccolo qua l'undicesimo di Ale Morello palla bellissima di Masciadri che ha fatto una giocata favolosa sulla fascia e Morello adesso è primo in classifica cannonieri pari con Maiko Galletta attenzione l'area di rigore passa Savino e calcia bene è 3 a 1 la palla sempre uscita ma sbattuto sul palo interno gol bellissimo di Savino da un palo di ritorno si gira Masciadri invece ha pensato al destro eccolo che lo esplode Masciadri un colpo da biliardo di Masciadri lo abbraccia anche Morello dalla panchina 4 a 1 inizia a prendere il volo la squadra con la maglia nero verde lo zampino di Masciadri c'è sempre in ogni partita strepitoso questo colpo palla arriva con un rimbalzo a Savino che la serve per Masciadri si mangia la doppietta e allora Morello decide che entra lui esce proprio Masciadri vuole anche Morello incontro Rabbit di calcia non benissimo Yadicicco chiude il discorso completamente Roger Rabbit con il destro quando mancano 3 minuti al termine la mette giù col mancino poi la mette per Morello è uscito Yadicicco con imprudenza Occhiamo a Masciadri in area di rigore che fa tripletta anche il discorso è più che chiuso il tempo è più che scaduto il baciamo alle mani è più che primo 12 punti stacca alla grande anche il quinto offender Morello in qualche modo Morello sul palo questa volta Rabitti 8 a 1 e l'arbitro dice che basta così Ciao Grazie a tutti.